Benvenuti nel Milano. Il Milano è stato creato per il sostentamento, sopravvivente, crescere. Lo scopo del Milano è per preparare la gloriosa razza umana. Il vostro mondo è solo una di 61 milioni e 290 mila installazioni in sud del Rade sparse sul pianeta. Voi siete in euro. Voi siete la prossima generazione di uomini e donne. Siamo stati creati per ridicolare la superficie. Il mondo fuori è pericolo, impurità, insidia. Entrare nel mondo fuori significa consegnarsi alla morte. Il mondo fuori è pericolo, impurità, insidia.